Dormo sull'erbo Quanto è importante parlare bene? Lo scopriamo in compagnia di Paola Martelli che ci racconterà in questa intervista che cos'è l'addizione? L'addizione è l'insieme degli aspetti estetici del parlato quindi non solo la pronuncia come a volte si crede, il fatto che si dica cosa piuttosto che cosa ma anche le tonalità, il ritmo, il volume tutti quegli aspetti paraverbali che rendono il modo in cui si dicono le cose interessante ed efficace nella comunicazione quindi lì dove non è importante soltanto l'aspetto semantico, del significato e del contenuto ma anche del modo in cui viene veicolato Ma a cosa serve parlare bene? Questa è una domanda che spesso mi rivolgono i giovani perché appunto siamo per avviare anche quest'anno un corso di recitazione presso il Teatro Duse la compagnia teatrale che io presiedo, che ha più voce in collaborazione appunto con il Teatro Duse Quando? Partiremo nella seconda metà di ottobre e in questi giorni stiamo avviando gli incontri conoscitivi alcuni colloqui conoscitivi appunto con i candidati Quindi per chi fosse interessato, rivolgersi al Duse direttamente, avete anche un sito internet? Sì, possono visitare sia il nostro sito, appunto il sito di A più voci sia quello del Teatro Duse ma poi questi colloqui possono essere prenotati proprio direttamente al Teatro Duse e poi verranno fornite tutte le informazioni Bene, dicevamo Dicevamo E' una domanda che mi viene fatta perché è facile che gli allievi che si avvicinano al corso non si rendano conto fino in fondo probabilmente anche un pochino condizionati da quello che sono i prodotti insomma con cui vengono in contatto anche dal punto di vista della televisione, del cinema avendo forse poco frequentato il teatro anche questa forse è una nota dolente a che cosa serve l'edizione? Beh, io dico prova a dire una battuta di Shakespeare con un accento fortemente condizionato dal punto di vista regionale vedi che insomma il messaggio cambia a meno che non si tratti della traduzione eduardiana in napoletano della tempesta quindi un'operazione chiaramente di carattere diverso per il resto diciamo che per convenzione chiaramente una convenzione con tutto il rispetto del dialetto quindi della lingua vernacolare è una lingua per convenzione, è una lingua teatrale che tra l'altro permette sia un'ampia varietà di personaggi per cui si può conservare un carattere chiaramente connotato regionalmente e localmente però può invece affrontare altro tipo di personaggi ma tutti i luoghi, gli aspetti e i momenti della comunicazione dalla pratica del doppiaggio alla comunicazione radio televisiva tu sai benissimo Ogni regione in Italia ha una sua inflessione esiste una località che in qualche modo rappresenta alla perfezione la dizione? Ma ancora di più che ogni regione cioè proprio si può parcellizzare ulteriormente tu sai che ci si può spostare da Bari e andare più in là di qualche chilometro già l'inflessione e la cadenza cambia Per convenzione diciamo la lingua italiana stiamo festeggiando con anche qualche polemica ma io voglio dire con un sano revisionismo alcuni momenti dell'unità nazionale per convenzione diciamo che l'italiano corretto diciamo così convenzionalmente è quello del fiorentino colto quindi noi ci è stata in qualche maniera quasi artificialmente imposta una lingua comune che avesse questa pronuncia Tranne le aspirate Tranne le aspirate ma tu sai che io ho anche insegnato in Toscana quindi non tutto è perfetto da punto di vista della convenzione proprio per carità e possiamo dire che loro sono fortunati perché il loro dialetto è diventato la loro lingua quindi per loro è anche abbastanza normale e spontaneo dico così più il fiorentino chiaramente come dici tu giustamente senza le C aspirate Brevissimamente raccontiamo ai nostri amici telespettatori in cosa consiste un corso di dizione Sì hai ragione perché ci siamo in effetti vorrei anche un po' ampliare il discorso anche se poi invece come giustamente dici restiamo nell'ambito del corso di dizione se però mettiamo nel calderone anche tutti gli altri aspetti appunto del parlato che non sono soltanto la pronuncia quindi il corso di recitazione a parte appunto prevede un laboratorio di canto tenuto e diretto da Daniela Cera perché anche te lo dico per esperienza personale io quando ho seguito il mio corso di recitazione mi sono formata alla scuola di Alessandro Fersen a Roma io sono stata mandata a studiare canto ma non per cantare cosa che poi ho fatto insomma perché comunque quella formazione anzi invito tutti i ragazzi ad essere pronti a qualsiasi richiesta diciamo da punto di vista artistico e tecnico che venga dal mondo del lavoro ma proprio per esercitare la voce nel parlato ed è questa una tecnica che noi usiamo proprio l'uso anche di una stenografia scenica che prevede che il testo venga chiaramente studiato, approfondito ti parlo del copione ma è chiaro che è una pratica che pur discendendo dal teatro può essere applicata a qualsiasi testo una relazione, una conferenza, una ringa, una predica insomma anche adesso i sacerdoti sono molto attenti alla comunicazione e quindi questa stenografia scenica come tutte le stenografie è un insieme di segni convenzionali che fanno riferimento alle categorie della voce tonalità, ritmo, volume e quindi questo significa che la voce è come uno strumento quindi anche nel parlato può essere usata in questo modo quindi chiaramente in modo interessante gradevole, piacevole, espressivo una cosa poi che volevo sottolineare di questo corso che non andiamo ad avviare e poi è una mia abitudine proprio per tutti i percorsi formativi che ho tenuto in questi anni sia presso l'università che presso gli istituti privati è che alla fine l'approdo è la messa in scena di uno spettacolo quindi non voglio parlare semplicemente di un saggio di fine corso a volte più o meno punitivo anche per chi va a vederlo a seguirlo ma di un vero e proprio spettacolo quindi con tutti i contributi creativi scenografia, luci, costumi, musica in modo che i ragazzi dico i ragazzi però in realtà non c'è un limite di età se non verso il basso ecco accederanno al corso donne non al di sotto dei 15 anni e ragazzi e non al di sotto dei 16 però per il resto non c'è lì e non c'è lì